Wow 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 amici pokefanatici, questa non è una nuova lotta a wifi ma bensì il video che avvierà una nuova serie dedicata alle novità introdotte nei nuovi giochi pokemon usciti da poco in giappone sto parlando ovviamente di bianco e nero 2 di cui potete vedere le immagini in questo momento parto subito con la premessa di dire che al momento non ho intenzione di avviare un let's play con i giochi che tratterò in questo video come molti utenti temevano dall'intro pubblicato ieri e oggi essenzialmente non l'avvierò per due motivi il primo è che al momento in gioco è disponibile solo in giapponese e dato che mastico le lingue molto bene ma non so una parola di giapponese attenderò perlomeno la release di una patch decente per poter apprezzare il titolo al meglio dato che prima dell'uscita dei giochi si parlava di una trama rivoluzionata in quanto questi due giochi sono seguiti dei precedenti bianco e nero il secondo motivo l'ha esposto Quincy nella intro di bianco e nero 2 tra i commenti e io condivido pienamente il suo pensiero che consiste nel fatto che i let's play sono abitualmente ripetitivi e se non intrapresi col passo giusto risultano noiosi e dato che io adoro distinguermi dalla massa sempre e comunque se più avanti effettuerò let's play barra walkthrough sarà diverso dai abituali perché non voglio assolutamente cadere nel banale purtroppo penso che non finirò mai di stupirmi di quanto sia retrogrado il nostro paese perché i nuovi giochi sono usciti già da più di 10 giorni e mi risulta che nessuno youtuber italiano stia ancora trattando delle novità che questi due titoli hanno portato alla luce e di cose da dire credetemi ce ne sono veramente parecchie nuove forme di pokemon, nuove locazioni da visitare nuove stupende animazioni in battaglia nuovi capi palestra nuovi moveset dei pokemon ampliati una trama rinnovata e tantissime altre novità insomma c'è tanta carne al fuoco di cui discutere ogni video di questa serie sarà dunque incentrato su un nuovo argomento ma prima di partire con l'annuncio del primo tema vi dico che le date di rilascio dei giochi all'infuori del giappone sono state confermate in vie ufficiali e nero e bianco 2 usciranno in america il 7 di ottobre e arriveranno da noi in europa il 12 di ottobre detto questo le premesse per questa nuova serie mi pare di averle messe in luce tutte spero che questa iniziativa riscuota un discreto successo e vi preannuncio che nel prossimo video introdurrò le nuove forme di pokemon e potremo analizzarle in maniera approfondita stay tuned, see ya!